Al 42esimo De Padova viene sentito da Collaro, che può parte prima, ma il pallone sfiora il palo. Al 46esimo, cross di Tartaglia, sconda di De Padova per Tirito, che in sacchierese sotto il croce. Nardo 1, poi spieghi si zero. La ripresa continua al salto per un'altra con un tiro di Tirito che è debole. Bara facile Coutiniano. Al 32esimo Elia si impune ad un passaggio di Batera. Il giocatore solo davanti a Coutiniano si va a ballare il tiro. E solo Nardo, minuto 43. Nell'Evictus si vola sulla sinistra. Servi di Rino che iscia clamorosa vite. Nel finale tiro in due in aria. Desfinge la padriata del corso sul tiro di De Padova. Ma invece finisce così. Nardo 1, poi spieghi si zero.